Onorevole Braga, un commento a caldo dell'intervento del Premier Meloni qui in Aula alla Camera? Ma dal Presidente Meloni un discorso nettamente di destra che ha confermato su molti temi a partire da quelli ambientali qual è lo sguardo di questa maggioranza che vede la transizione ecologica come un obbligo, non come una grande opportunità di sviluppo, di crescita. Pochissime parole per liquidare la più grande crisi che abbiamo, che è quella climatica da fronteggiare e c'è bisogno invece di accelerare molto anche per aiutare le famiglie e le imprese sul fronte delle bollette investendo in energie rinnovabili, in efficienza energetica e in economia verde.